Monasterium è nato da un'intuizione di padre Michele di Monte, che è un eremita diocesano che vive in alta Valsassina, sopra il lago di Lecco. Lui nella sua scelta aveva necessità di trovarsi anche un lavoro da fare in qualche modo e il suo lavoro è stato proprio quello di tradurre e proporre al pubblico testi della tradizione patristica e della tradizione monastica che in particolare non fossero conosciuti in area italiana. L'idea è partita da lui e poi si è concretizzata in una piccola realtà editoriale indipendente che pubblica questi testi. Lui sceglie, legge, traduce e io mi occupo della parte invece redazionale della impaginazione fisica del libro e della strutturazione.